Ciao bambini! Ma lo sapete che il Nuovo Testamento contiene un casino di testi falsi? Che non c'è mezzo scritto che riguarda Gesù prodotto da testimoni oculari? Lo sapete che per decine e decine di anni la sua vita, le sue opere e le sue parole sono state trasmesse solo per passaparola? Sapevate che molti testi del Nuovo Testamento sono stati manipolati intenzionalmente nel tempo? No? Non lo sai? Ma è ovvio. Se i preti e i professori di religione ti raccontassero i risultati della ricerca storica sulle sacre scritture, non le considereresti più sacre scritture. E non considereresti loro preti o professori di religione, ma disoccupati. Cosa sappiamo veramente? Cosa possiamo ritenere certo della vita e le opere di Gesù Cristo? Tenetevi pronti domenica 26 febbraio a mezzogiorno. Accomodatevi nella sala d'attesa del mio canale YouTube per assistere assieme alla prima colonoscopia di Gesù Cristo, ma senza anestesia. Mi sa che era meglio la croce!